Cava for Friends Sicuramente è stato un evento che ha testimoniato la solidarietà di Cava, dei cittadini di Cava e anche degli artisti cavesi La cosa fondamentale è che comunque Cava c'è ed è sempre stata Lo dicevo prima sul palco, chi non conosce il dolore non sa che significa solidarietà Noi abbiamo avuto il nostro dolore nel 1980 e non possiamo far altro che donare quello che ci è stato donato in quegli anni Sono felicissima perché dovunque ci sono persone attive, persone che riescano a creare energia Anche nel piccolo è un buon segnale per l'umanità, dico io Quindi sono felicissima di essere qua stasera e di invogliare queste persone a mettere anche la monetina nel salvatanaio Per me è già tanto questo Voi avete sentito il dovere di essere qui questa sera? A parte che è un dovere è un piacere, piacere assoluto perché ci vuole cuore per fare una manifestazione del genere Quindi si sta riempiendo la piazza, sono appena le nove quindi stanno chiudendo i negozi Aspettiamo più gente ancora quindi forza Cava, forza, forza Il nostro piacere è essere qua presenti soprattutto per un fatto di adesione a un'idea bellissima Quella della solidarietà Poi c'è da dire che noi siamo un'associazione e quindi lavoriamo nel sociale Oltre a fare serate Grazie Cava Grazie